La Procura di Campobasso ha concluso le indagini in un procedimento che vede indagato un dipendente della motorizzazione civile di Campobasso accusato del reato di falso continuato in relazione ad un'autocertificazione presentata dall'uomo all'ufficio di appartenenza e poi esibita e prodotta all'Agenzia delle Entrate in sede di verifica fiscale. L'indagine della squadra mobile dell'Agenzia delle Entrate è un approfondimento del filone sull'importazione di veicoli da paesi dell'Unione Europea senza versamento dell'IVA dovuta all'erario. Nel caso di specie il soggetto denunciato allo scopo di omettere il versamento dell'IVA per un importo di poco superiore ai 2.000 euro in occasione dell'acquisto della propria macchina da un concessionario di Campobasso aveva reso dichiarazioni false alla motorizzazione da cui dipende all'Agenzia delle Entrate attestando e dichiarando di essersi recato direttamente in Germania per comprare la vettura da un privato e quindi non essendo tenuto al versamento dell'IVA in Italia laddove invece il risultato che il veicolo compravenduto era di fatto stato acquistato a Campobasso da una società a cui l'interessato aveva effettuato un regolare bonifico bancario. In seconda battuta davanti ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate aveva confermato di aver acquistato il mezzo direttamente in Germania ed esibiva una fattura falsa dalla quale risultava la vendita dal concessionario tedesco direttamente all'acquirente italiano. Poi l'indagato laddove invece la fattura autentica documenta una vendita tra concessionaria tedesca e concessionaria Campobassana essendo altresì tracciato il pagamento di quest'ultima con bonifico a favore della prima.